Paola e Chiara saranno parte del cast di Pechino Express? Gli esperti suggeriscono di sì, ma chi saranno gli altri concorrenti? Pechino Express tornerà il prossimo anno con un cast d'eccezione, all'interno del programma potremmo trovare le sorelle Paola e Chiara, che da poco hanno fatto un ritorno sulle scene dello showbiz Insieme a loro, pare, ci saranno anche Alex Belli e Delia Duran Ma chi sono gli altri concorrenti? Leggi anche, ballando con le stelle, tutto il cast ufficiale, c'è anche il compagno di selvaggia Lucarelli Paola e Chiara a Pechino Express? Dopo tante richieste, finalmente Paola e Chiara sono tornate sulle scene, le sorelle Yezi hanno cantato sul palco di Max Pezzali a San Siro e stanno progettando una vera e propria reunion, anche se questa non è ancora stata confermata da nessuna delle due dirette interessate Oggi pare che le due cantanti siano pronte a prendere parte a un'altra fantastica avventura, quella di Pechino Express Il programma infatti tornerà il prossimo anno con la sua decima edizione, le registrazioni inizieranno il prossimo mese e in queste settimane si sta discutendo del cast Paola e Chiara saranno parte della trasmissione di Costantino della Gerardesca? I più informati dicono di sì. Il cast i nomi di Paola e Chiara hanno fatto tremare i fan dall'emozione, ma Pechino Express vedrà altre coppie di eccezione Scati infatti sta valutando tutti i possibili nomi da inserire nel cast del programma, ma chi saranno gli altri? Secondo The People questi potrebbero essere i futuri concorrenti della trasmissione Nicola Svaporidis ed Edoardo Tavassi Francesca Schiavone e Flavia Pennetta Alex Belli ed Elia Durani i primi due nomi della lista potrebbero essere più reali che mai Proprio Edoardo Tavassi, tornando in Italia dall'Isola dei Famosi, aveva dichiarato quanto segue, sempre su People poi si legge, insomma Paola e Chiara dovranno vedersela con degli antagonisti agguerritissimi Prenderanno davvero parte a Pechino Express? Lo scopriremo presto. Seguici su Instagram cliccando qui E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao